dal 25 marzo. Un tumore al polmone asportato per la prima volta con un robot. L'intervento mini-invasivo è stato eseguito con successo alla chirurgia toracica universitaria dell'ospedale Molinette, città della salute di Torino, su una paziente di 49 anni. L'equip medica ha usato il sistema robotico della piattaforma Da Vinci XI utilizzando una tecnica operatoria che riduce i rischi di emorragie e altre complicanze chirurgiche, garantendo un impatto estetico minimo. La paziente verrà dimessa nei prossimi giorni.